Cecilia Francese, allora dopo le fatiche di questa campagna elettorale, un ambiente un poco più rilassato, ora si pensa a dare una nuova giunta alla città e soprattutto per il lavoro che è in mano da fare e soprattutto ora per il rilancio di battivaglia come hai più volte ribadito nei tuoi comizi. Sì, ti devo essere sincera che mi manca un po' il clima della campagna elettorale perché è vero che è stressante, i ritmi sono alti, però è bello. Ora inizia la fase di consultazione come normalmente ma anche se mi è stato mandato carta bianca sulla scelta degli assessori però a me piace anche condividere perché quando tu vai su profili alti non è semplice, nel senso che ci sono ma quando chiedi, per esempio abbiamo chiesto a una persona, non dico il nome ma professore universitario per l'ambiente è una figura veramente altissima perché è chiaro che poi ti dicono che tutta la collaborazione, quello che volete, però fare l'assessore ovviamente impegna a stare presente quotidianamente sul territorio e quindi è chiaro che queste figure qui sono difficili da trovare nel senso di tempo. Comunque stiamo aspettando anche, ho visto altre persone, stiamo aspettando delle risposte, io spero che per fine settimana riesco a chiudere tutte le caselle, insomma abbiamo individuato la cultura, abbiamo individuato, ripeto, anche l'ambiente ma aspetto delle risposte finali perché fare l'assessore a cittadino e battivaglia non è semplice, insomma, e chiedere un profilo alto neanche è semplice perché di solito sono persone impegnate moltissimo. Per cui sono, poi è chiaro, una volta individuata la squadra e quando la commissione proclama anche i consiglieri si dovrà andare in consiglio comunale quanto prima e iniziare a lavorare. Stiamo già prendendo contatti, veramente anche altre istituzioni stanno prendendo contatti con noi per le tante cose da fare, veramente c'è tanto da fare. E per la presidenza del consiglio? No, noi proponiamo Cappelli perché, come è sempre stato, Cappelli è il più votato e quindi ha di sta più votata, lui è il più votato, insomma, quindi proponiamo Cappelli sicuramente. E per quanto riguarda il rapporto con le opposizioni? Ma siamo aperti, l'ho detto anche dal palco, disponibili. La città c'è tanto tanto da fare e quindi tutti mi conoscono che sono stata sempre disponibile con tutti. Quando ci sono dei progetti o un lavoro da fare per il rilancio del territorio mi trova sempre disponibile, non ho mai detto, anche le persone che lavorano col comune o che vengono e presentano progetti, non ho mai detto se va votato o meno, non è nel mio stile, non l'ho mai fatto e non lo facciamo mai. Quindi massima disponibilità con tutti. Questa è una città che deve continuare a crescere e quindi è importante lo spirito di collaborazione, sempre nel rispetto della legalità e delle regole.